La morte è un grande limite di cui non sappiamo nulla, diciamo così, al di là delle questioni di fede che possono illuminare il passaggio, però gli uomini sono sempre interrogati su questo passaggio, smettere di farlo vorrebbe dire ridurre la vita a una dimensione e questo non va bene. Il tema della vita non è solamente la durata perché l'esperienza del tempo per un uomo non è l'esperienza di un cronometro, perché evidentemente contano più cose che la durata appena nella vita, è quello che riflettere sulla morte aiuta a riflettere su ciò che dà valore alla vita. E gli uomini fanno arte perché compongono il loro linguaggio in cerca del significato, per afferrare il segreto del vivente, come diceva Ungaretti. L'arte diventa il linguaggio non solo che mostra che l'animo dell'uomo cerca il senso, ma anche il modo in cui questa ricerca di senso si può condividere meglio che con altre cose. Grazie a tutti.